Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio, io sono Francesco e oggi siamo in un video speciale Ecco, diciamo un video particolare perché come avrete potuto vedere abbiamo sigla nuova, luogo nuovo e copertina nuova E in questo caso c'è anche il nome del canale nuovo E adesso non siamo più One Piece, Misteri e Curiosità ma per prendere in generale i manga, gli anime, ci chiameremo Anime to Manga TV TV è quella cosa scritta in giapponese, abbiamo fatto così per... Molto figo E come ci avete detto, alcuni ci hanno suggerito di voi ma era anche una nostra idea che aveva minuto e abbiamo cambiato questo nome Per chi non lo sapesse noi partiamo da un blog, da un sito blog, ci siamo One Piece, Misteri e Curiosità E abbiamo appunto messo questo nome nel nostro canale Ovviamente passava il tempo e le persone iniziano a chiederci Ma perché vi chiamate One Piece, Misteri e Curiosità se per esempio io caricavo le recensioni o comunque parlavamo anche di altri anime E così è nata questa, diciamo, idea di cambiare il nome Ma questo non vuol dire che, diciamo, siamo staccati dal blog da dove parte tutto Infatti molte teorie che voi vedete sul canale sono prese dal blog Ma praticamente è come se noi fossimo un ramo del blog di One Piece, Misteri e Curiosità Perché One Piece, Misteri e Curiosità si occupa, diciamo, di fare post Mentre Anime e Tomanga si occupa di fare video E infatti magari andando avanti con i numeri, quando diventeremo più famosi Creeremo anche magari tipo pagine Instagram e Facebook Ma per ora ci concentriamo, come abbiamo fatto fino ad ora, su YouTube Questo non vuol dire che cambieremo ora video, cose, niente Rimareremo sempre nei due e faremo sempre i stessi video Solamente se ci sembrava più opportuno cambiare, diciamo, questo nome Sia per comprendere una maggior parte di utenti di YouTube Che magari vedono One Piece e dicono questi qua tratto, non sono anche questa cosa Per creare anche, diciamo, un canale Che prendendo dai post del blog li rassurano i video Quindi una parte video, abbiamo sia quella dei post che una parte video Ragazzi, in più ovviamente non rimarremo sempre gli stessi E cerchiamo veramente ogni giorno di migliorarci Infatti, come avete visto, il primo passetto è stato caricare due video alla settimana Uno la domenica e uno il giovedì E di solito sarà quasi sempre così Speriamo di poter farne anche altri, quindi di metterne tre alla settimana Anche se ci stiamo lavorando E in più proprio stiamo pensando anche ad aumentare la qualità Ma ragazzi, siamo, come vedete, ragazzi Quindi non è che prendono uno stipendio Quindi alla fine vedremo un po' che fare Magari investiremo su questo canale in maniera seria Quando capiremo di poterci impegnare di più Quindi se volete che tutto questo si possa realizzare Aiutateci anche voi e condividete e fate conoscere il nostro canale Per questo video è tutto Da Anime2Manga Dal nuovo Anime2MangaTV è tutto Noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao